Siamo con l'application engineer di Lazit, Mario Palmieri, buonasera, ci descriva brevemente che cosa vediamo alle sue spalle, che cosa presentate. Allora, noi presentiamo dei sistemi di marcature incisione laser, abbiamo diverse tipologie di macchine che permettono quindi di andare a incidere su vari materiali, sia metallici che plastici e quindi marcare i propri loghi, andare a fare tracciabilità e quant'altro. Ovviamente noi facciamo sia sistemi standard che sistemi customizzati in modo tale da abbracciare tutte le esigenze dei nostri clienti. Voi siete degli affezionati perché so che parteciperete anche a Parma, a Bologna. Sì, esattamente, noi seguiamo Maxpe ormai da diversi anni, seguiamo a Parma quindi da quando è nata e prossimamente anche a Bologna. Mi descriva con proprio due parole la vostra esperienza con Maxpe. Ma abbiamo visto crescere questa fiera tantissimo e ci piace, ci piace molto quindi continueremo a seguirla.